Eccoci qui, siamo volati in Calabria, partiamo dal sud che è 6,99, quindi qui lo scrutinio è terminato, vediamo un po', qui Santelli Iole 65, Callipo 25, Aiello Francesco 5,62, qui c'era pure una lista in appoggio, poi che c'è? E fratelli, e fratelli, vediamo al centro, al centro ancora non sono definitivi, 52, 51,98, Santelli Iole 33,7, Callipo 8,25, oh è qui in successione, Movimento 5 Stelle, a quei fratelli sono solo questi, vediamo quest'altro, 51,13, e qua è stata combattuta, qua è stata combattuta a nord della Calabria, il PD30, 10,11% tanzi, 7,46, il Movimento 5 Stelle, altro grande successo, vabbè, vabbè, diciamo che ti fa, vabbè, vabbè, vabbè.